Sono Maurizio Ricci, amministratore del Gatto DB. Siamo una società che da tanti anni fa consulenza e sistemi formativi nel mondo della manutenzione e dell'asset management. Veniamo, partecipiamo all'evento di Ayman, realmente nella storia ormai da tanti anni. Siamo sicuramente molto interessati perché la platea merita per proporre nuove soluzioni, proporre nuove tecnologie e noi che siamo un'azienda che investe molto in ricerca e sviluppo e in innovazione riteniamo che questa sia la platea corretta per il tipo di soluzioni che andiamo a fare. In particolare quest'anno, oltre la parte tecnologica, proponiamo un nuovo approccio all'ingresso in azienda nell'area dell'asset e questo approccio si basa prima di tutto su un'attività di assessment per comprendere lo stato di maturità dell'azienda dal punto di vista dei processi, delle tecnologie e dell'organizzazione.